Ha un nome la rampa di accesso alla chiesa di San Francesco di Gualdo Tadino. Si chiama Simon Luca, dal nome del ragazzo che esattamente un anno fa vinse idealmente la sua battaglia contro la burocrazia e la ottenne. Era l'ottobre del 2016 quando l'Istituto di Istruzione Superiore di Spoleto telefonò al Polo Museale di Gualdo Tadino per prenotare una visita guidata per gli studenti delle classi quarte e quinte. Tutto bene tranne che per uno studente, Simon Luca, classe quinta, disabile. La chiesa di San Francesco era sprovvista di rampa per l'accesso di una sedia a rotelle. Anni di burocrazia avevano rimpallato la questione da un ufficio all'altro accumulando ritardi. Dato che pochi giorni prima avevamo avuto lo stesso problema in un'altra mostra e il ragazzo siamo entrati a turno per non lasciarlo solo. Lui non è riuscito ad entrare perché la sua particolare sedia a rotelle non entrava nell'ascensore. Non so, ci siamo infervorati, mi sono infervorata. Quindi ho immediatamente chiamato il preside perché ho deciso in quel momento che se Simon Luca, questo ragazzo, e la madre, la famiglia fossero stati d'accordo io avrei intrapreso questa battaglia. Una battaglia che ha trovato accanto sia il direttore del Polo Museale, Katia Monacelli, che il sindaco Massimiliano Presciutti, che attendevano da tempo i nulla osta necessari e i fondi per installare la rampa all'ingresso dell'edificio posto sotto tutela. Nel frattempo Comune, Museo e Scuola si sono mobilitati per consentire a Simon Luca di entrare ugualmente in quell'ottobre in chiesa, superando con la buona organizzazione e la volontà quello che le carte non erano riuscite al momento ad ottenere. Quel giorno il nostro alunno è entrato, grazie all'unità alzi, con una sosta di pedana che si alzava e poi a distanza di pochissimo tempo io ero a scuola e la cosa mi ha commosso perché la mamma di questo ragazzo, una donna di quelle, una vera combattente e la dottoressa mi hanno mandato le foto della rampa e io sono entrata veramente commossa quella mattina in classe dicendo a tutti abbiamo avuto questo successo, è merito di tutti voi in particolare, del ragazzo insomma che affettosamente sorrideva e abbiamo ottenuto la rampa, a Gualdotadino c'è la rampa. Questa settimana la scuola di Spoleta è tornata a Gualdotadino nella stessa chiesa di un anno fa questa volta per la mostra Seduzione e Potere come forma di ringraziamento a tanta mobilitazione foto ricordo davanti alla rampa come lieto fine di una storia non così isolata, non così non comune.